Avviata dall'Asle di Teramo una campagna di comunicazione per informare i cittadini delle corrette procedure inerenti e l'assistenza a domicilio dei positivi al Covid. Negli ambulatori, dei medici, di medicina generale, dei pediatri, di libera scelta, nelle farmacie, nei distretti di base e poliambulatori dell'Asle, dall'inizio di agosto sono stati affissi dei manifesti che danno indicazioni chiare al paziente su che fare in caso si scopra positivo. La regione ha ripreso una nostra procedura che noi avevamo messa in campo il 30 giugno quando sono scadute le Usca. A quel punto noi ci siamo dati un assetto organizzativo con i medici ex Usca che hanno accettato di continuare un'attività con la nostra Asle. Quindi adesso tutta questa procedura è stata messa in campo per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso e l'intasamento degli ospedali. Si tratta in pratica di regole ben precise in cui il paziente che dovesse essere positivo viene preso in carico dal medico di base. In sostanza il paziente dovrà rivolgersi al medico di medicina generale che dovrà valutare il da farsi a seconda dell'entità dei sintomi. In caso ci sia bisogno di approfondimento oramai da un mese è stato istituito un numero unico in ciascuna Asle, attivo 24 ore su 24, a disposizione solo dei medici di medicina generale. Nell'eventualità in cui i casi dovessero essere più complessi, prima di andare in ospedale viene l'intervento dell'ex Usca, noi abbiamo intitulato la RSA di Bellocchio dove lì verranno fatti i primi accertamenti con ecografia ai polmoni, visita pneumologica e tutta una serie di esami diagnostici per verificare le condizioni del paziente e vedere che tipo di procedura mettere in campo. Mentre invece per i giorni prefestivi e festivi ci si dovrà rivolgere la Guardia Medica che anche in questo caso loro faranno dei intermediari con i nostri operatori sanitari per tutelare al meglio il paziente positivo.